Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio di questa custom map spettacolare Allora come vedete sono sempre insieme a Nova e Viacorollo Ciao ragazzi Leggendo dai vostri commenti in pratica ci avete scritto che la spada doveva per forza venire qui E di fatti ragazzi noi alla fine siamo tornati indietro e l'abbiamo trovata qui che orbitava sul pavimento Evidentemente magari la mappa si era un attimo buggata all'inizio non lo so ragazzi Comunque come vedete dal mio inventario abbiamo la spada di ferro rinforzata E quindi la quest è stata fatta e in più adesso possiamo fare la lista dei nostri bellissimi oggetti vedete Allora Ah no fatto fatto Oh magari avevi tu il potere Dammi gli oggetti un attimo Vai ti do tutti gli oggetti prova a farlo te Ho messo i libri da dentro Ok Mi pare che devi metterli gli oggetti Andiamo prima andiamo dall'alchimista Ah dai prendete i libri entro qua Aspetta prende qua Hai biblioteca umana prendi i libri Vai eccoci qua Tutti i libri sulla schiena mi sembra di essere a scuola Te tocca te tocca studia Ok vai ecco quelle cartelle che pesavano 18 miliardi di chili E porta quel libro e porta l'altro Lasciate un like ragazzi se anche voi avete le cartelle striper mega pesanti come i miei tempi Allora Giù così Hashtag Bistar dai suoi tempi Bistar dai suoi tempi Vai così Dov'era l'alchimista? Tu te lo ricordi? Eh Assolutamente sì Dammi l'ascia Ottimo E cosa facciamo con l'ascia? Possiamo spaccare le staccionate Ed eccoci qui di nuovo ragazzi dal farmer Siamo qui da non so quanto tempo abbiamo parlato con chiunque abbiamo fatto di tutto e di più Non potete neanche immaginare che cavolo abbiamo fatto Ormai conosciamo tutti i mobs a memoria E lo invitiamo anche a per una birra E in pratica qua ragazzi è spawnata questa cosa qui Blu col bottone sopra Quindi Che Io scappo via Schiacciami ma ho paura Esatto Io faccio un attimo parkour sulle zucche e me la fugga Tu li ecco non lo puoi esplodere Vai Bastardo Due, due, due Uno vi hai Wow Cos'è sta roba nevica? Oh madonna Ma escono da le fottute pareti Cos'è? Non è vero Al quel momento Cos'è sta roba? Che figata però Ma in mano mi ha dato un sacco di roba Ma perché tu? Io non c'ho niente Moonlight pumpkin P-p-p-p Voglio rischiacciarlo No Non va più Datemela Cosa cavolo hai preso? Hai preso? Vado? Passa la mac che conferma la quest Ah ce l'ho io Moonlight pumpkin Vai così Fatta anche questa Abbiamo detto di andare alla chiesa Completate le quest Dai andiamo alla chiesa Vai finiamo queste quest Che sono qui da un anno e mezzo Lo premiamo? Vai A te l'onore Quest complete Vai lo spremo io Vai Non è esploso niente Perché a me non va nulla? Prova a te Non va nulla Quest complete Ah si è aperto Si è aperto Ottimo Vai così Allora qua ci sono le teste Spero di non fare la loro fine Ma che cazzo Noi stiamo andando ragazzi Ok niente E poi ci tuffiamo Ah no qua qua Ceste Oh mio dio cosa c'è Diamante Tutto mio Oh mio dio quanta roba No io ho finito tutto raga Allora fatemi intanto cambiare Allora leggo il giornale intanto Questo leggo il libro Allora Eh circa da 20 anni Left to my kingdom to come here Vabbè Eh questo tipo è da 20 anni Che abita qui E diventato un prete Prima lavorava per Finalmente è libero Da questa maledizione Ah Ah Is the only one I have blood Basta Ok Volver di fantiro Eh la storia Però la vorremmo sapere Prendi tutto Prendi tutto Che te frega Vai ho già finito tutto io Oh e c'è bella leva Per il cimitero anche Andiamo 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 Ti vai Tirati fuori le spade Prima che c'è qualcuno Tre Io ho l'arco Aspetta Spada in diamante Questa sia il lord Vado Vai Spada in diamante Oh Fermi tutti Fermi tutti Oddio Cos'è che c'è Oh zombie All'attacco ragazzi All'attacco con la spada in diamante Finalmente si combatte Allora diamo sotto nelle segrete Sono esaltato ragazzi Sono esaltato La premo Vai Premi Ha ridetto Ha provato a notare La rava Ma se io la ripremo Non succede nulla Cavolo E in me c'è la testa di qua No 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 Dai Ako Non sai fare il parkour Eh disse dai Boh Che cavolo è successo Oddio Fermi fermi All'attacco Mi spacco tutti Quattro contro uno Con la spada in diamante Vieni vieni qua Che ti massacro E anche a te E no è morto Madonna No Fai caccare però Oh io prendo la spada Io la prendo la spada Io la prendo No no Prendete la spada Allora ragazzi Dopo questo attacco Da parte degli zombie Ragni e di tutti di più C'è Nova Che ci racconta La storia Del libro Perché siamo qui Fantastico Comunque io tengo a precisare Che sono l'unico Pezzente vestito ancora in pelle Ma vabbè Noi siamo Indiamantati ragazzi Me la segna al dito Io anche l'elmo Non che se la lega Se la segna Me la segna No no Perché sono Sono a capo Io c'ho l'elmo Iperpotente Comunque sia Nel libro c'è scritto Che Il re e la regina Sono usciti E hanno dato via Alle celebrazioni Quando la regina È andato via Alle celebrazioni Il cielo è diventato Tutto nero E il vento È iniziato a spirare E poi la storia Si interrompe Ok Tutto qui Questa qui è la storia Ragazzi Veramente interessante Quindi Valorosi guerrieri All'attacco Facciamo andare avanti Bastard Tirare la bestard Vai Venite tutti qua Che magari spawna qualcosa State giù in fondo Uno stia giù in fondo 3,2,1 Vai Olè I mini ragni Che cavolo Aiuto Aiuto È diamantato No È in mani diamanti È uno scarletto Ho visto Oh È esploso anche tutto Ma siete impazziti Mi date una mano Mi date Sì tutti io Stronzi Non capisco Ha i diamanti In mano Le hai presi Iaco No Però voi siete Stronzi Sì Dei ragnetti Io sono Una cassa Cos'è sta roba King Queen Knight Sono La regina E due cavallieri Che le proteggono Mi piglio un po' di roba Ciao Mi prendo i campani Di diamanti Io prendo questo Prenditi tutto Io ho già tutto A me non mi interessa Il resto Le torci Mi sa che sono La spada Piglia la spada Ma la spada Io non ho più spazio Ah ma forse Oh cazzo Dobbiamo sciderli O darli Mi rubate la spada Oh No Dobbiamo riprendere Mi sa che dobbiamo Vestirli Ah hai capito Ma ribalca Ma è la spada Ah forse Io piglio tutto Vai piglia tutto No la spada è mia Vabbè Io schiaccio il bottone No Ho fatto una capolata Ragazzi Aiuto Potevamo prendere la roba Oh cazzo Dove siamo Do aiuto E di fatti Potevamo ben prendere Io non ho più niente Vabbè Che cavolo siamo raga Tieni le metto No Cos'è sto tuoni Fulmini Fermi tutti Come diceva il libro Tutto oscuro Con il vento Che è Spawnato in su Ma siamo dal Vi so dalla fortezza Vai 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 Andiamo Che figata Il prato di pumpkin Arco Spada in ferro Per fortuna che ho rubato La spada in ferro Siete pronti Dentro Oh cavolo Via 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 Perché non attaccano Ah adesso Sì Maledetti Ma si attaccano Quanto tolcono Solgono un botto Vabbè Non mi ha neanche colpito Vai Cos'è che c'è tu qua Io Meraldi Cioè Meraldi Ecco qua Ecco qua Oh Fantastico E qua c'è un'altra porta Prima però aspetta Che c'è qua Ma porca miseria Vai all'attacco Ti copro io alle spalle Vai 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 Non colpire me però Le spalle Via 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 Allora Qua c'è asmeraldi Smeraldi Che abbiamo più Un po' dei quadri Passaggio segreto Lo scoperto per cazzo Dove Anch'io Fighissimo Chi è assassino Cliccato Libro Smeraldi Mala Assassin mission Protezione 4 Quanti ne avete voi Smeraldi Io ho uno Ho preso l'elmo Aspetta che leggo L'assassino mission Allora Dammi l'elmo Ehm Pettiamo via questo Che figata Vabbè si dice che Dicirei Il mazzo Ottimo Poi cosa dà Elmo Pantaloni Spade La spada per quanto Questa invece dà Un potenziamento Vabbè io mi tengo La spada in ferro Tanto è uguale Ragazzi Che figata Che figata I pantaloni Magari ecco Perché C'è anche un libro Dei incantesimi Ti ho dato Quello in diamante Dove Nel tuo inventario Ah ecco Bella bella Così tutto in diamante Di nuovo Potentissimo Aspettatemi Piglio via Iacob Libro di protezione Affilatezza No ma aspetta Prendiamo Tieni un attimo Per i cantesimi No Salute Libro di incantesimi Guardate io Zero Volete dice Vedere No Allattino In un attimo Forse ne troviamo altri Continuiamo Vai 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 Prossima porta Attenzione Attenzione Occhio Per il giardinetto Perfetto Ho un umore Porca miseria E il corollo gamma Zanova Aia Iacob di schifo Vai vai Così Smeraldo Comunque c'era una cesta Ah siamo qua dentro Eh rientriamo io c'erano Ah qui c'è un Un elmetto Ah un'altra leva Prima un'altra leva Leva Ah dobbiamo trovarne tre di leva a sto punto Beh io ne ho due Io ho due leve Ok Oh perfetto Ne abbiamo quattro Perfetto Andiamo E dove le mettiamo? Dentro questa scrittura? Eh posso le sedia una? Qua Qua Allora Io le ho Batti io così Vai Bisogna spegnere le luci Eh tutte bisogna spegnerle Ok gira Manca una Vai tirala No questa non me la mette Ah forse quella No è un'altra leva Allora Quindi ci manca la leva Che da qualche parte qui dentro Maledetti Eccola qua Trovata 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 Vai 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 Buttala Io sono già pronto A combattere i mostri Pronti vado Tre due uno Via Vai Nulla Magia nera Vai così Oh madonna Che figata Però sta mappa È fighissima sta mappa E parkour Ah no scherzavo Dov'è che siamo? Lasciamo Start boss fight Fermi tutti Quindi ragazzi Con questo cartello Io finisco qua L'episodio Se vi è piaciuto Veramente sarà un episodio XL Questo qui Perché stiamo Registrando da tantissimo tempo Poi vedrò Di editare il video Non so quanti tagli Dovrò fare Ma è veramente Da tantissimo tempo Che siamo qua dietro Lasciate veramente Tantissimi pollicioni in su Perché questa mappa È veramente Spettacolare Spettacolare Bellissimo Veramente Fantastico Io ringrazio Iaco Inova Per avermi accompagnato Fino qua No grazie a te Che questa mappa Veramente Mi sta dando Spettacolo E vedremo poi Chi sopravvive Allo scontro Con il boss Sicuramente non Che come cavolo Sarà il boss Cioè fatto a zucca Boh Lo scopriremo Nella prossima puntata Ragazzi Iscrivetemi Nei commenti Come pensate Che sia il boss Lasciate tantissimi Pollicioni Passate nella pagina Facebook Iscrivetevi al canale Qua da Beastard Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Iscrivetevi al canale